Suonare queste canzoni di Canisciolti davanti al pubblico nei teatri è stato estremamente complesso. Io non avevo mai fatto un tour teatrale, ma sentivo che questo era il disco giusto, il momento giusto della mia vita per cantare queste canzoni in determinati spazi. E devo dire che all'inizio, soprattutto le prime date, è stato difficile perché c'era un'emotività che prevaleva su tutto. Poi quell'emotività si è trasformata e si è ben amalgamata con la tecnica e con quello che dovevo dire e cantare in quel momento. Però sì, è stato forte, ecco, dico così.